Doni, sorrisi e tanto affetto per tutti. Alla provincia di Bari la visita dei bambini e dei ragazzi belorussi e giapponesi è stata davvero una festa. Carini, affettuosi e disciplinati, i piccoli di Chernobyl e Fukushima, le due città colpite nel 1986 e nella scorsa primavera dagli spaventosi disastri nucleari, hanno ricevuto l'abbraccio simbolico della città. I piccoli sono ospiti di tante famiglie del capoluogo che con loro stanno trascorrendo in Puglia le vacanze estive, lontano dall'area di morte e malattie che si respira nei loro paesi. Ad accogliere i bambini, i ragazzi belorussi e giapponesi che stasera al San Nicola assisteranno al Trofeo Team, gli assessori provinciali al personale e ai servizi sociali della provincia di Bari, Sergio Fanelli e Giuseppe IV. I primi di agosto ci siamo incontrati, li ho accompagnati quel giorno sia da Bridgestone che al Policlinico per far sostenere loro le visite mediche, ma è giusto in questo mese che vede la loro presenza presso le famiglie di Bari, è giusto regalare dei momenti belli, far conoscere la nostra storia, la nostra cultura, le nostre istituzioni. Per cui celebriamo oggi un giorno di festa che ha inizio questa mattina alla provincia e si metterà questa sera allo stadio dove accompagneremo loro nel Trofeo Team che vedrà appunto la partecipazione della Juve, dell'Inter e del Milan. L'obiettivo delle amministrazioni in genere, quindi della provincia comune anche a livello ministeriale, ci deve essere questa cosa, cioè il rapporto tra le famiglie e le istituzioni per dare un sorriso alla gente che soffre, questo è l'obiettivo principale, il resto è aria fritta, tutto qui, cioè l'importante è partecipare e rendere partecipi i ragazzi, dire la solidarietà non fa business però fa sorriso che è la cosa più bella.